Buonasera miei tesorucci splendidissimi, come state? Io bene, mi sono appena struccata, sono tornata a rifarmi la ricostruzione unghie, ma ho iniziato a farla sulla mia unghia naturale per pagare 30 euro in meno, tanto ricresceranno, non penso che le terrò chissà quanto lunghe perché con il lavoro non lo so. Comunque, piccola intro per farvi vedere le palette che ho deciso di portare a casa di Domenico perché domani dobbiamo andare a Napier eccetera eccetera, quindi mi fa comodo lasciare delle palettine lì, mo ve le faccio vedere. Siccome mi rode abbastanza porterò questa palette e la lascerò da Domenico che è il fake che avevo comprato su Vinted, spacciandomela, cioè spacciatomela, spacciatomela si può dire, vabbè me l'hanno spacciata per originale, pagata 35 euro e invece è un falso. Oltretutto ho visto su Amazon che la vendono identica a 10 euro, 15 euro non mi ricordo, è identica anche il nome, ovviamente come vi ho detto non è originale, è un falso raga, un falso, fatto abbastanza bene ma ovviamente le polveri non sono quelle di Uda, nonostante, se magari, vabbè c'è una pellicola che non riesco a togliere perché questo è cremoso, si è incollata, ma l'ho aperta poco fa, vabbè comunque. Questi colori qua fanno pena, però questi satinati e matte non mi dispiaciono, mi sono rifiutata di usarla perché mi rodo ogni volta a vederla e sapere che sono stata presa per il cosiddetto, ma mi dispiace buttarla perché ci ho buttato 35 euro anche se ne vale 10, visto che è un falso, vabbè comunque la porto per le emergenze. E poi questa l'avevo messa in vendita, ma nessuno se l'è cagata, quindi destino, mi porto anche questa le poche volte che mi trucco quando vado da lui, però va bene così, mi porto queste due. Pardon, sono stata sconcentrata alla fine, allora, metto quelle palette, poi porto questa, oltretutto oggi ho usato questo bronzer qua, sapete che voglio finire la palette, che poi l'accantonate eccetera eccetera. Ora raga, sta polvere è spettacolare, cioè sì, me la ricordavo bella, ma confermo tuttora che la polvere è stupenda, stupenda, stupenda. Quindi porto questa, così all'interno c'è anche due illuminanti, e intanto la faccio fuori, solo due gloss, uno rosato e uno marrone, e poi questi blush che non uso da una vita, che però, se vedete, non posso vendere o regalare, perché ci sono le impronte dei miei cuccioli, ovviamente, ah no, questo è l'unico sano, le loro unghiette, quindi me li porto, ho varie colorazioni, ok, e poi mascherino. Mi servirebbe l'eyeliner, ma no, mi faccio la riga con il pennello e l'ombretto nero, ok, tutto qua, ciao ciao!